Esce definitivamente dai fondi del PON la materna comunale Collodi di via Siracusa. La rinuncia della candidatura del presso scolastico giarese che necessita di un urgente intervento di ristrutturazione era stata già preventivata nei giorni scorsi in seguito di un fatale errore procedurale. L'amministrazione comunale alla vigilia e alla scadenza dei termini nei giorni scorsi, rileggendo attentamente il bando, aveva verificato che gli enti locali possono presentare uno o più candidature e tuttavia ciascuna domanda di finanziamento doveva essere riferita ad un'unica istituzione scolastica. anche se può riguardare i più plessi della medesima istituzione scolastica. Il Comune si accingeva invece a presentare tre distinti progetti di cui erroneamente due riguardanti edifici scolastici del secondo istituto comprensivo e un terzo progetto per il primo istituto comprensivo e nonostante la proroga concessa nel frattempo dal Ministero dell'Istituzione, i termini sono scaduti l'altro ieri, non vi erano dunque le condizioni per richiedere il finanziamento. L'assessore servizi tecnici del Comune, Franco di Rao, dal canto suo non nasconde la propria delusione, pur tuttavia si dice ancora fiducioso che la scuola possa usufruire dei fondi di un bando regionale cui il Comune di Giarre ha aderito nel 2016, nell'ambito del quale era stato presentato un progetto per il restauro della materna comunale. L'assessore di Rao afferma che ha incontrato il dirigente scolastico Rosario Stella Cardillo, piegando in un incontro le ragioni della rinuncia. Del resto, avverte ancora Di Rao, nel caso avessimo tentato di partecipare, un'eventuale contestazione procedurale avrebbe finito per pregiudicare le sorti di altri due progetti che invece hanno buone speranze di essere finanziati. Nel frattempo, ancora ribadisce Di Rao, siamo impegnati a seguire l'iter del bando regionale. Il progetto è in gradatoria e in merito sono in corso comunque delle interlocuzioni con la Regione, dalla quale si attendono notizie circa la possibilità di ottenere l'importante stanziamento.